Cari amici, questa catechesi è intitolata il segno dell'abbondare dell'iniquità, cioè è uno dei segni appunto che comprovano l'affermazione della Madonna che viviamo in un tempo in cui Satana è sciolto dalle catene. Abbiamo visto, cari amici, che l'abbondare dell'iniquità per la verità è una costante nella storia della salvezza e tant'è vero che Dio, dopo il peccato originale, si diffuse così tanto l'iniquità nel mondo che decise di punire l'umanità con il diluvio universale. E poi comunque anche nella storia del popolo di Israele vediamo che comunque il popolo di Israele fa molta fatica a osservare il patto d'alleanza, l'alleanza che è stata fatta con Dio attraverso la quale appunto il popolo si impegnava a osservare i comandamenti e di onorare Dio come suo unico Signore, mentre poi in realtà nel corso della storia si è lasciato trascinare dall'idolatria. Quindi l'iniquità ha abbondato lungo tutto il corso della storia della salvezza, ma appunto con l'avvenuto di Gesù Cristo, lui è l'agnello di Dio che si è preso sulle spalle i peccati di tutti gli uomini. E quindi dal suo sacrificio sulla croce è sgorgata con la fonte di purezza che ha lavato e che lava i peccati del mondo attraverso i sacramenti, specialmente il battesimo e la penitenza. E quindi con la presenza di Cristo nella Chiesa c'è questa fonte di grazia che è appunto il cuore di Cristo che accompagna il cammino dell'uomo fino alla fine dei tempi. E quindi è anche il tempo questo, quello che va dalla prima alla seconda avvenuta di Cristo, in cui l'umanità ha la grazia della salvezza e gli uomini hanno non solo la luce della fede, ma anche la grazia dello Spirito Santo che attraverso appunto i doni della fortezza aiuta gli uomini a osservare i comandamenti. Avete sentito anche il messaggio recente della Madonna del 25 del mese? Appunto la Madonna ci invita a osservare i comandamenti attraverso la grazia dei sacramenti, cioè senza la grazia dei sacramenti non riusciamo a vivere i comandamenti, cioè senza la grazia di Cristo non riusciamo a condurre una vita morale retta. Infatti Gesù stesso dice senza di me non potete fare nulla. Quindi attingere la grazia attraverso i sacramenti dà a noi la possibilità di combattere il peccato che opera dentro di noi e di vincere le tentazioni del demonio che attraverso il mondo ci induce al male. Quindi noi viviamo quel tempo della storia giustamente chiamato il tempo di grazia dove possiamo diventare persone buone, possiamo diventare persone sante. Abbiamo la luce della fede, la luce della verità, la grazia che infonde la forza nel combattimento spirituale e quindi sicuramente una forza di redenzione dell'umanità. E difatti è il cristianesimo che sicuramente nel mondo ha portato alla redenzione dell'uomo, l'ha portato da una condizione di schiavitù del demonio, una condizione di filonanza divina. D'altra parte la schiavità dei santi, quelli noti, ma soprattutto quelli ignoti, che si dimostra come la presenza di Cristo e della sua grazia nel corso della storia abbia migliorato la condizione umana e cioè ha dato agli uomini la possibilità di essere persone buone. e questa è una grazia che si diffonde anche al di là della chiesa visibile perché c'è una chiesa invisibile anche che è fatta da coloro che comunque rispondono alla grazia e rispondono a Gesù che batte alla porta del loro cuore e si aprono alla bontà, si aprono alla misericordia, si aprono alla conversione e per quello che troviamo anche persone buone al di fuori del cristianesimo è la grazia di Cristo che opera in loro. Allora, cari amici, quando noi parliamo della bondade e dell'illiquità oggi parliamo di una realtà che è molto più grave di quello che accadeva prima di Gesù Cristo. Cioè, prima di Gesù Cristo non c'era la redenzione, quindi che il mondo fosse sotto il potere del maligno diciamo era era scontato perché con il peccato originale il mondo è caduto sotto il potere del maligno. Quindi, prima della venuta di Cristo non c'era la grazia della redenzione benché Dio non facesse mancare le grazie necessarie per la salvezza. La diffusione dell'iniquità, il traboccare dell'iniquità nel tempo della grazia è quindi un fatto grave, cioè è un tradimento è, diciamo così, come la Madora più volte ha sottolineato nei suoi messaggi, nelle sue apparizioni, un tradimento di Cristo, un abbandono di Cristo, un abbandono della grazia e della salvezza per passare di nuovo al diavolo. Quindi, la bondade e dell'iniquità in questo tempo di grazia nel nostro tempo è un po' un ripetere quello che è accaduto nel partito terrestre quando tutti i nostri progenitori erano in stato di grazia, in stato di amicizia con Dio, alla fine hanno diffidato di Dio, hanno cremuto nel demonio, hanno tradito Dio, sono passati dalla parte del demonio. Mi sembrano affermazioni pesanti queste, ma sono esattamente le affermazioni che trovate nel catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi, questo sta avvenendo nel nostro tempo, cioè, specialmente il continente europeo che è stato un po', diciamo, il luogo dove il cristianesimo ha messo le radici dopo l'eliminazione quasi totale delle Chiese del Medio Oriente da parte dell'Islam, proprio l'Occidente che ha portato il Vangelo, l'Europa occidentale, che ha portato il Vangelo un po' in tutto il mondo, cari amici, da qualche secolo a questa parte, è stato un processo di rifiuto del cristianesimo, di contestazione del cristianesimo, di rifiuto della salvezza cristiana. Ritornando a che cosa? Ritornando poi all'idolatria, perché l'alternativa al cristianesimo è l'idolatria. Difatti, noi abbiamo visto nascere qui, in Occidente, una nuova religione che ormai è diventata maggioritaria e perlomeno la religione delle classi dominanti che comunque ritengono l'altra religione compiuta il cristianesimo come una forma di subcultura, di sottocultura per i poveracci, ma le classi dominanti hanno rifiutato sicuramente il cristianesimo e l'ideologia che diffondono nel mondo è un ateismo materialista dove alla fine c'è il culto dell'umanità. Questo è diciamo il tradimento il tradimento della fede ricevuta è una riedizione sia in forme diverse dal peccato originale ed è quindi possiamo vedere dalla parte del diavolo il suo tentativo del diavolo di diventare il patrone del mondo. Allora quali sono i segni della bondade dell'iniquità oggi? Ce ne sono tantissimi però alcuni possiamo metterli a fuoco e sono appunto i segni di questo mondo senza Dio che è la costruzione della modernità cioè questa denuncia che state costruendo un mondo nuovo senza Dio l'ha fatta la Madonna che dall'alto vede molto bene come stanno le cose. Allora prima di tutto è la negazione della verità cioè la negazione del cristianesimo cioè il cristianesimo viene negato cioè viene disprezzata la salvezza che ha portato Gesù Cristo ma peggio ancora si ritiene che il cristianesimo abbia annunciuto l'umanità se tornate al tempo delle persecuzioni dei romani quando appunto lo storico romano Tacito nel primo secolo dopo Cristo diceva che non è lecito essere cristiani cioè i cristiani sono pericolosi cioè i cristiani sono quelli che nuociono al mondo ingannano la gente perché dicono che c'è un Dio che non c'è che c'è una legge morale che non c'è che non c'è uno al di là che non c'è quindi in pratica ingannano la gente e quindi c'è il rifiuto di quella salvezza che viene da Cristo perché Cristo in fondo non è venuto a proporci un benessere materiale non è venuto non era un messianismo terreno il suo lui è venuto per salvare le nostre anime e per liberarci dalla schiavitù del demonio questa è la salvezza di Cristo liberarci dalla schiavitù del demonio elevarci alla divina filonanza aprirci le porte del paradiso questa è la salvezza cristiana questa salvezza cristiana non interessa alla gente no non interessa alla gente alla gente all'occidente interessa il progresso materiale tutto il resto sono favole ma il progresso materiale ce lo dà la scienza non la religione a parte il fatto che questa è una falsità perché se se gli uomini non sono onesti non sono laboriosi non sono puliti se gli uomini sono sono dei prepotenti degli adulteri sono degli ingannatori sono dei falsi vorrei sapere che che progresso materiale c'è non c'è nessun progresso materiale quindi però c'è questa negazione del cristianesimo ma anche c'è la negazione stessa dalla verità cioè non esiste una verità che possa essere tale per cui non si può dire che Dio esiste che l'anime esiste che l'aldilà esiste che c'è una legge morale che esiste ci sono le opinioni personali delle persone le quali appunto organizzandosi nella società stabiliscono ciò che ciò che è giusto e ciò che non è giusto cioè una maggioranza può stabilire che l'aborto è un delitto un'altra maggioranza può stabilire che l'aborto invece è un delitto uno dice che è un delitto l'altro dice che è un diritto e così via allora chi ha ragione dicono ha ragione la maggioranza che c'è in quel momento non c'è una verità e appunto la negazione della verità è una delle caratteristiche nel mondo nel quale viviamo che è stata denunciata soprattutto attraverso gli interventi di Benemetto XVI quando ha parlato della dittatura del relativismo quindi negazione della verità negazione della moralità cioè quando si nega la verità si negano diciamo così si nega la concezione del mondo cristiana che appunto in quanto rivelate da Dio una verità di carattere divino ma quando si nega la moralità si negano in pratica i dieci comandamenti come legge universale valide per tutti gli uomini iscritta nella ragione iscritta nel fondo della coscienza e che comunque deve servire come orientamento per tutti gli uomini negando la legge morale tu non hai più un criterio per stabilire ciò che è bene e ciò che è male per cui noi adesso cioè ovviamente eliminare la legge morale in un modo totalitario è quasi impossibile no? perché comunque significherebbe distruggere l'interiorità umana distruggere la ragione umana cioè è impossibile che si stabilisca per legge che rubare va bene però però si stabilisce per esempio oggi appunto che che uccidere un essere umano del crimine materno è un diritto questo non si stabilisce che eliminare una persona anziana perché comunque pesa sulla sanità questo è possibile e già si fa stabilire per esempio che che il patto coniugale non li pica la fedeltà quello lo si può stabilire quindi una volta la Volterio era ritenuto non solo un peccato ma anche un reato adesso la Volterio è ridotta addirittura una medicina per il matrimonio cioè siamo di fronte ai vaneggiamenti della ragione adesso stabilire appunto che il patto d'amore fra un uomo e una donna fino a poco tempo fa era una realtà naturale evidente adesso no no si cioè tutto è uguale un patto d'amore può essere fra un uomo e una donna fra due donne fra due uomini domani potrebbe essere anche con qualche animale non si sa mai come vanno le cose quindi questa è la negazione dei fondamenti della moralità la negazione dei comandamenti e quanto c'è nel mondo d'oggi per cui per cui la gente non solo nega che ci sia il bene e che ci sia il male come elementi indistruttibili per cui se una cosa è buona è buona e in così momento della storia se una cosa è cattiva è cattiva in così momento della storia ma oggi c'è di peggio e che si esalta il male come se fosse una forma di bene c'è l'esaltazione del male c'è la propaganda del male questo è dunque l'altro segno della bondade dell'iniquità cioè la negazione della moralità e andiamo avanti cari amici mettendo a fuoco quelle che sono le ideologie del male per il nostro tempo il nostro tempo ha come diciamo come ideologia dominante quello che Giovanni Paolo II chiamava di nuovo totalitarismo questa visione atea e materialistica del mondo e dell'uomo appunto in questa visione l'uomo viene ridotto al suo corpo e questa è la cosa più grave che può accadere nel nostro tempo che accade nel nostro tempo per quale motivo perché si nega che l'uomo abbia una dimensione spirituale questo è un fatto nuovo della storia umana cioè tutte le culture del mondo le più evolute come le quelle più semplici cioè parlo delle culture dell'Asia che sono molto evolute come per esempio l'induismo dell'Europa poi diciamo le culture africane quelle dell'America Latina tutte le culture del mondo hanno affermato che l'uomo è a due dimensioni cioè ha una dimensione terrena che è quella del suo corpo ha una dimensione spirituale che è quella dell'anima insomma per cui per tutti i popoli del mondo non ci sono eccezioni dopo la morte c'è un al di là difatti nella storia umana non sono mai stati sepolti gli animali sono sempre stati sepolti gli uomini perché si crede in un al di là oggi cari amici si crede in un al di là perché si crede che l'uomo abbia un'anima spirituale immortale che sopravvive alla morte del corpo questa concezione è poi ovviamente già presente nella sacra scrittura ma soprattutto presente in tutta la storia cristiana e sembra benissimo che il cristianesimo ha annunciato soltanto la sopravvivenza dell'anima ma anche la risurrezione dei morti quindi è una forma molto è una religione che è fondata sulla vittoria di Cristo sulla morte ebbene oggi c'è la riduzione dell'uomo al suo corpo perché tu sei il tuo corpo questo ovviamente ha generato la cultura del corpo il culto del corpo ma anche generato una visione della vita per cui con la morte finisce tutto l'uomo è il suo corpo ma questa riduzione dell'uomo al suo corpo cosa comporta comporta che l'uomo sia una cosa non sia una persona e quindi che sia un essere manipolabile per cui per esempio ecco l'aborto cosa ti dicono quelli che giustificano l'aborto che si tratta una poltiglia in forme per cui però tu quella poltiglia in forme lascia che vada avanti e diventa un uomo vero quindi come dicevo già Tertulliano è già uomo quello che un uomo sarà ma la riduzione dell'uomo al suo corpo giustifica per esempio l'aborto giustifica anche l'eutanasia cioè quando il corpo cioè in un altro momento voglio dire quando si cosifica la persona tu la puoi manipolare in tutti i modi anche tutti gli interventi sulla genetica adesso per cui diciamo si interviene addirittura si fanno diciamo si fanno si fanno degli esperimenti per cui si tenta di produrre l'uomo con la tecnica con la biotecnica e questo è tutto basato sul fatto che l'uomo ha il suo corpo che non c'è un'anima immortale che si possono fare gli incroci fra l'uomo e l'animale come sta facendo adesso che si possa fare la clonazione cioè tutto parte dalla riduzione dell'uomo al suo corpo per cui tutto viene giustificato come data parte viene giustificato lo sfruttamento che c'è dalla persona umana che viene usata per produrre denaro cioè non c'è l'uomo non è il fine dell'economia l'uomo serve per produrre denaro per cui diciamo siamo come i polli in un grande allevamento e servono ovviamente per fare quattrini ma non è che a matto momento non è che tu serva molto di più questo dominio del denaro sull'uomo dell'economia sull'uomo della volontà di potenza fa sì che l'uomo diventino strumenti e quindi le persone servono per produrre denaro e per l'arricchimento di pochi e quindi si va verso devastazioni sempre più grandi di quella che è appunto la dignità della persona umana cioè si parla molto di diritti però però la persona è sempre meno tutelata e che va è esposta a forme infinite di sfruttamento specialmente i bambini oggi si coprono delitti innominabili sui bambini ma non solo i bambini che sono usati per fare le guerre ma i bambini che vengono usati per produrre i bambini che vengono usati come strumenti di uso sessuale sono fenomeni diffusissimi che ti indicano come l'uomo usa l'uomo come l'uomo è diventato un oggetto da utilizzare come qualsiasi altra cosa cioè questo viene da che cosa dalla mancanza del rispetto della persona umana nella quale non si vede più l'immagine divina lo splendore dell'anima l'immagine di Dio ma è qualcosa che è prodotto qualcosa che si usa qualcosa che si getta questa è una delle caratteristiche del dilagare dell'iniquità alla quale noi abbiamo fatto lo stomaco ci siamo abituati ormai a questo di più ci siamo rassegnati ormai a questo e andiamo avanti cari amici nel descrivere questo abbondante dell'iniquità e qui tocchiamo il punto a mio parere più delicato che è il matrimonio e la famiglia come sapete nelle apparizioni più recenti per esempio quella di Giai di Bonate che è avvenuto subito dopo la guerra proprio il 13 maggio come è avvenuto subito dopo la prima guerra mondiale quella di Fatima il messaggio fondamentale della Madonna era la protezione della famiglia come d'altra parte anche il messaggio fondamentale di Fatima nel senso che solo c'è di Fatima che ci ha accompagnato per lungo tempo fino a qualche anno fa aveva già profetizzato che il momento in cui Satana tentava di distruggere l'umanità era quello in cui incominciava con la distruzione della famiglia cioè noi abbiamo sempre pensato e anche io ho sempre pensato che il più grande pericolo di distruzione del genere umano fosse la bomba atomica ma lo è sensato ancora adesso ma c'è qualcosa di più grave ancora un pericolo maggiore che la distruzione della famiglia la distruzione della famiglia è oggi quello che è l'ordine del giorno c'è una programmazione mondiale per distruggere la famiglia finanziata dalle persone più ricche del mondo e addirittura sono arrivate al punto da diffondere capillarmente ovunque l'ideologia del gender cioè la negazione della mascolinità e della femminilità per cui è talmente capillare è talmente finanziata a livello degli stati per cui vengono finanziati vengono pagati gli stati perché ci faccia questo vengono pagati gli operatori sociali vengono pagati i politici i quali per esempio impongono per dire una cosa si arriva ormai anche anche nelle parrocchie nelle scuole di catechismo si arriva a dire che quando si deve fare l'analisi logica o l'analisi grammaticale se per esempio io dico rosa non devo più dire nome comune nome di genere femminile non posso più dirlo devo dire rosa un nome non posso più dire che di genere femminile cioè questa legazione sistematica della mascolinità e della femminità è orientata e finalizzata alla distruzione del matrimonio e alla distruzione della famiglia e alla riduzione dell'essere umano a una monade chiusi in se stessa senza porte senza finestre senza legami familiari senza legami affettivi in modo tale che siamo soli nel mondo e così possiamo essere manipolati a piacere del potere costituito pensate che nelle società più avanzate a mio parere più degradate bisogna dire non più avanzate più degradate in questo senso per esempio nel nord dell'Europa la maggioranza delle persone vive sola muore sola e marcisce da sola negli appartamenti senza che nessuno se ne accorga questa è la situazione nella quale ci troviamo ovviamente in questa situazione cosa si fa si fa si dà a tutte le persone il kit dell'eutanasia perché in questo momento togli il disturbo avvisi di venire a prendere il cadavere perché non puzzi e così si risolve la vita questa è la società anticristica è la società dove il mondo è diventato una propagine dell'inferno quindi la distruzione del matrimonio dalla famiglia la progettazione degli esseri umani come se fossero degli oggetti di cui cari amici diciamo il concepimento improvetta di cui la possibilità che la donna venga incinta senza la possibilità di conoscere un uomo basta avere una basta avere diciamo così gli elementi necessari di cui lutano in affitto tutte queste diavolerie sono diavolerie qual è il concetto il concetto che l'uomo è un essere materiale che io costruisco è quindi manipolabile non è un soggetto non è una persona non è inviolabile in questo modo si programma si programma l'inferno sulla terra cari amici non possiamo tacere come segno dell'iniquità abbondante che abbonda nel mondo cari amici quello che ormai abbiamo davanti agli occhi di tutti e cioè la proliferazione delle armi nucleari questo non è uno scherzo cari amici guardate che se siamo vivi se il pianeta non è ancora stato distrutto è un miracolo crevetemi un miracolo perché Dio ha giurato quando ha fatto il patto con Noè che non aveva mai più permesso che il mondo fosse distrutto e di fatto Giovanni Paolo II nel suo testamento ha ringraziato Dio per avere preservato l'umanità dall'occaso nucleare ma adesso cari amici tutti vogliono avere armi atomiche una volta c'era comunque questa condivisione del mondo questa divisione del mondo fra Stati Uniti e Russia poi si è aggiunta la Cina avere le armi atomiche adesso lo vogliono avere tutte le armi atomiche tra poco le avranno anche i terroristi sono sul mercato internazionale cioè il mondo è talmente a rischio di pericolo che noi ci chiediamo possiamo benissimo dubitare che domani siamo ancora vivi il Papa più di una volta ha detto in questi ultimi tempi che non per cattiva volontà ma solo per uno sbaglio il mondo potrebbe essere distrutto da un momento all'altro guardate fino a che punto il diavolo è riuscito a prendere in mano le leve del mondo la mano ci aveva già avvertito nel 1991 quando cadde l'Unione Sovietica che Satana voleva distruggere non soltanto la vita e la natura ma anche il presente sul quale viviamo queste non sono prediche sono fatti sono fatti e anche la possibilità che ci sia un terrorismo nucleare è una possibilità molto concreta non saranno certamente i servizi segreti a salvarci saranno gli angeli custodi del mondo crevetemi sarà la preghiera dei piccoli degli umili sarà la presenza della Regine della Pace qui in questo tempo e così cari amici abbiamo messo a fuoco questo che è un disegno è un segno della Satana sciolta dalle catene l'abbondare dell'iniquità come mai c'è stato questo abbondare dell'iniquità nella storia del mondo ma il mondo è stato in pericolo come oggi per la distruzione dei valori morali che ha comportato la possibilità di qualsiasi persona diciamo così che un capo di stato un imperatore ormai ci sono gli imperatori sono tornati gli imperatori quelli che hanno tutto il potere in mano e che hanno talmente a disposizione armi potentissime per decigere l'umanità siamo arrivati a questo da questo da questa situazione ci tira fuori nessuno chi ci tira fuori secondo voi o ci tira fuori la Madonna o nessun altro ma la Madonna ci tira fuori se noi la aiutiamo questo cari amici è il grande compito che noi abbiamo davanti oggi e nei prossimi anni salvare le anime dalla perdizione eterna salvare il mondo dall'autodistruzione Grazie a tutti